Il pacchetto di norme per tornare in classe e viaggiare in sicurezza entrerà in vigore dal 1 settembre. Da domani, infatti, il passaporto sanitario sarà obbligatorio per tutto il personale scolastico e universitario, così come per gli studenti dell'università. Non è previsto per i ragazzi delle scuole nuove norme, anche per chi si sposta su determinati mezzi di trasporto pubblico e privato. L'obbligo del Green Pass riguarda i treni a media e lunga percorrenza. Si tratta di intercity e di tutti i convogli dell'alta velocità. La certificazione non serve per i treni regionali. Il decreto varato il 6 agosto introduce la carta verde anche per i voli nazionali. Su quelli tra regioni italiane basterà aver effettuato la prima dose di vaccino, essere in possesso di un tampone negativo o essere guariti dal Covid. Per le rotte europee, invece, saranno necessarie entrambe le dosi e con validità a partire dal 14esimo giorno successivo alla conclusione del ciclo vaccinale. Il certificato sarà obbligatorio anche per gli autobus che svolgono un servizio in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni, accesso libero e senza restrizioni per chi si muove con il trasporto locale. Il pass non sarà obbligatorio su metropolitane, autobus locali, tram, treni urbani e regionali. Al contrario, servirà per prendere navi e traghetti che effettuano il trasporto interregionale. Sui vari mezzi, infine, spetterà alle compagnie e alle aziende verificare la validità del Green Pass e che l'utilizzo dei servizi avvenga nel rispetto delle norme. Per la scuola, invece, ci sono ancora diversi nodi da sciogliere e questi sono i giorni decisivi per stabilire i dettagli sull'organizzazione della ripartenza tra nuove regole e controlli. Sono esenti i minori di 12 anni e chi non può vaccinarsi per motivi di salute sulla base di doni a certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti dal Ministero. Grazie.